ora uno ha pagato sempre fino a quando lavorava cerchiamo piste con i nudi che ne vengono che sono complici vostri i banchi e i finanziari siete tutti complici noi non possiamo pagare più e magari mi mettete una blacklist e poi mi faccio mettere la 41 bis si io credo molto negativo